Ehi tu, benvenuto sul nostro canale. Io sono Piero e io sono Mauro. Quello che facciamo su YouTube è caricare le nostre giocate su Fortnite aggiungendo delle musiche che rendano più gradevole la visione del video. Non siamo due top player, ma potete guardare i nostri video per rendervi conto come ce la caviamo su questo gioco. Vi auguriamo una gradevole visione. Grazie a tutti.